Il calendario MotoGP è stato rivoluzionato, alcune gare appunto sono state cancellate, altre spostate. Secondo la tua opinione, quando credi si potrà iniziare la stagione? Io credo che queste due settimane dove non c'è stato, come si dice, il liberi tutti, ma comunque tantissime persone stanno tornando lavoro, tante altre possono comunque uscire di casa, vedremo veramente se questo virus continuerà comunque a rallentare o al contrario ritorneranno i tantissimi casi, speriamo di no. Dopodiché, dopo queste due settimane, per me si riuscirà a capire se veramente il campionato potrà partire fine luglio, i primi d'agosto, come Dorna, che è l'ente che organizza il Moto Mondiale, vorrebbe fare. Sarà comunque un Moto Mondiale diverso, con meno gare, con pochissime persone all'interno del paddo. Sei stato uno dei protagonisti del primo campionato del mondo di Moto E e ti chiedo, come ti è apparsa questa nuova categoria? Ti posso dire che dopo il primo anno sono veramente contento di aver accettato quella proposta e posso dire, ma per fortuna che ho accettato, perché è una moto che ha un sacco di pro e contro, come tutte le cose, però ha un margine di sviluppo incredibile. Già quest'anno, in poche occasioni, siamo riusciti ad andare più forte della Moto 3, nonostante il peso enorme di questa moto attuale, e sono convinto che con lo sviluppo, che già c'è stato nel primo test di quest'anno, dove hanno portato delle gomme nuove, e un raffreddamento per la batteria nuovo, siamo riusciti ad abbassare ancora di un secondo e mezzo i tempi fatti l'anno scorso. Ci stiamo addirittura avvicinando i tempi della Moto 2. Ripeto, credo che in futuro questo sarà veramente un campionato con gli attributi. Avete messo insieme un nuovo team, il Rock & Dea, con appunto Massimo Roccoli, quindi raccontaci un po' questa nuova avventura. Prima di essere piloti, io e Roccoli siamo amici di infanzia, poi da lì la guerra in minimotto, e abbiamo preso poi due strade separate, io il mondo della MotoGP, lui il mondo della Superbike, e in realtà c'eravamo anche un pochino persi a livello di amicizia, perché siamo sempre in giro, e tra l'altro con due calendari diversi non ci incontravamo mai. Dopodiché abbiamo iniziato con questa nuova categoria, che si chiama appunto Supersport 300, ad utilizzarle al posto del motard. Queste 300 le usiamo anche per andare nelle piste di go-kart come allenamento fisico specifico per la moto. E ogni volta che ci incontravamo, e magari ci sentivamo prima per organizzare, andare insieme, appunto girare, e quando sei più piloti in pista si dà veramente l'anima e l'allenamento diventa più vero, più perfetto, si aggregavano tantissimi piloti. Noi, al fine ci sentivamo io e lui, poi dopo si spargeva la voce e ci trovavamo in pista sempre in 10-12 piloti. E allora ci siamo detti, ma scusa, invece che magari insegnare ad altri che non sappiamo neanche chi sono, perché non prendiamo dei pilotini giovani con noi e andiamo a girare con loro e insegniamo tutto il nostro sapere a questi pilotini?